Ciao ragazzi, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video lunedì, aggiornamento dei mercati, cripto, aggiornamento, analisi ciclica sui grafici, già davanti a me, siamo in scadenza del ciclo mensile di bitcoin che dovrebbe chiudere a momenti ragazzi, ok? Con queste ultime candele probabilmente di debolezza andiamo oggi a cercare di capire che cosa potrebbe succedere in questa settimana che la settimana che con una buona dose di probabilità andrà a chiudere quello che è il ciclo mensile, il primo mensile rialzista in questo caso rispetto ai precedenti e quindi dovrebbe sancire appunto in maniera ufficiale l'inizio del nuovo ciclo annuale tra giugno e luglio del 2021 quindi che poi ci accompagnerà per i prossimi mesi, andiamo a fare il punto della situazione per capire che cosa può succedere questa settimana perché vi faccio vedere un po' tutti gli aggiornamenti dell'analisi ciclica e quella che è la struttura del ciclo mensile e poi andiamo a vedere anche Ethereum per esempio che sta facendo la stessa struttura di bitcoin e poi verso la fine del video vi mostro anche i livelli che potrebbe raggiungere in questa fase di rip, ovviamente in questo caso ragioneremo un po' a livello di trading e quindi non di posizionamento di medio e lungo periodo però ragazzi perché no il prossimo ciclo mensile potrebbe essere molto importante anche per posizionarsi per il medio e lungo periodo cioè almeno un anno se non anche di più anche perché io ho delle idee un po' particolari sul mercato delle crypto, vi svelerò queste mie idee tra qualche settimana perché voglio un po' fare chiarezza, voglio aspettare un po' di avere le idee più chiare anche se e vedere se il mercato appunto mi conferma queste mie idee prima di andare avanti iscrivetevi al canale come sempre ragazzi e su con i pollici perché mi date una mano soprattutto in questo affoso periodo di ferragosto che sono qui davanti al computer per ragionarvi ma era assolutamente necessario anche perché i mercati hanno fatto veramente delle bellissime performance anzi ragazzi è proprio di ieri il video che vi ho pubblicato relativamente alle mie top 5 del mercato crypto, vi faccio vedere che luna proprio oggi ci ha sparato quello che ci aspettavamo cioè questo break del livello di resistenza fatto proprio ieri con una candela di più 33 e poi questo più 17% sono già in trailing stop su queste operazioni come da mio video che vi ho fatto vedere ieri ragazzi quindi andatevi a vedere questo video sulle top 5 tra l'altro è andato benissimo quindi vi ringrazio come sempre e insomma vi rendete conto insomma un po' più quello che vi avevo detto da un punto di vista di attività di speculazione e poi ragazzi come sempre vi chiedo di iscrivervi anche al canale Telegram ma scusate Instagram oltre che quello Telegram adesso mi sto confondendo con i grafici e come sempre ragazzi eccoci davanti al grafico di Bitcoin andiamo nel vivo del video allora questo è il grafico che ci tiene compagnia da sempre ormai praticamente è diventato quasi da sempre sul mercato delle criptovalute qui abbiamo tutta la struttura che precedentemente ci aveva accompagnato vedete anche l'ultimo trimestrale, i 90 giorni sono 3 mesi ribassista che era stato costruito da Bitcoin e poi il primo ciclo mensile rialzista che sta facendo dopo la fase di ribasso di maggio che sancisce l'inizio in questo punto di una nuova struttura ciclica certamente è quasi sicuramente anche di un nuovo ciclo annuale su questa fase però ragazzi dove siamo in questo momento? allora stiamo tecnicamente ad oggi a 27 giorni allora un ciclo mensile dura più o meno una trentina di giorni questo è stato un ciclo anche abbastanza rialzista quindi potrebbe essere un po' più lunghetto dei trenta giorni se volessimo farlo concludere con la conclusione di questa settimana con un classico ad esempio venerdì nella settimana andrebbe a chiudersi più o meno intorno al 21-2021 del mese di agosto allora ipotizzando appunto questa zona intorno al 21 del mese di agosto abbiamo queste naturali candele rosse che si stanno andando a creare su bitcoin queste tre candeline rosse che ragazzi sono tutto sommato estremamente poco rilevanti in termini di trend il trend continua ad essere fortemente rialzo almeno nel breve vedete questa struttura di massimi e minimi assolutamente crescente questa fase qui potrebbe essere un po' più forte a livello ribassista rispetto magari alle precedenti la fase mezzana del ciclo mensile era stata abbastanza consistente aveva portato ad una fase di ribasso in termini percentuali di circa il 10% che anche se ragazzi 10% per i mercati cripto vi fa già capire che siamo comunque in una fase forte di bitcoin in questo momento allora qui se anche andassimo a chiudere un eventuale mensile in maniera un po' più consistente se il mercato si mantiene all'interno di queste due medie mobili potrebbe fare un meno 7 quindi insomma dai massimi andarsi a chiudere all'interno di queste due medie mobili per chiudere il ciclo mensile vedremo più tra un po' anche i livelli di prezzo ragazzi in questo momento vi spiego un po' la fase ciclica dove ci troviamo quindi siamo nella fase di conclusione di questo ciclo mensile attenzione perché l'ho già detto in academy la scorsa settimana io ho un po' l'idea che questa fase di chiusura del ciclo mensile di bitcoin sia blanda ve lo dico francamente perché perché se questo mensile è il primo di un nuovo ciclo annuale qui siamo nella fase proprio di forza del mercato è anche vero che i cicli annuali in alcune situazioni fanno i primi due mesi in assestamento quindi dimostrano forza come è stato d'altronde questo ciclo mensile è stato molto forte ragazzi guardate dai minimi bitcoin ai prezzi attuali a più 57 ma è arrivato a più 63% dei minimi quasi un raddoppio ragazzi che numeri le cripto volute che numeri va bene ok allora per non parlare delle altcoin alcune proprio hanno fatto il 200% quindi cosa incredibile va bene allora nel momento in cui però si va a costruire questa prima chiusura del ciclo mensile poi bisognerà andare a vedere quella che è la successiva ripartenza perché il prossimo ciclo mensile potrebbe non avere questa pendenza verticale insomma qui praticamente è stata così magari va a fare una ripartenza un po' più blanda nei primi giorni per poi magari fare una struttura a rialzo nella seconda parte però di questo ne parleremo poi quando il mercato inizierà a darci qualche segnale perché altrimenti siamo veramente se non nella palla di vetro perché non abbiamo nessun segnale in questa fase però questi giorni di debolezza vanno a essere configurati come dei semplici giorni di chiusura del ciclo mensile di bitcoin se non che sicuramente il mercato ha toccato anche un livello di resistenza importante perché ragazzi questo livello di resistenza consiste proprio nella pull up in questo caso perché venivamo dal basso di una importantissima fascia di ex supporto cioè quella che aveva bloccato il ribasso ad aprile del 2021 e poi aveva dato il là per questo inutile tentativo di rialzo che poi è sfociato con un ribasso appunto che abbiamo visto a maggio questo livello che funzionasse da resistenza ragazzi era assolutamente assodato il 48 insomma ci sta assolutamente ma anche addirittura un'eventuale fase di espluà fino anche a 50 a 49,50 ci stava ragazzi quindi in questo momento il mercato si è adagiato su questo livello di resistenza e va in chiusura raccogliere forze per poi tentare il break nei prossimi giorni probabilmente dovrebbe farlo almeno ho un po' dei calcoli che mi fanno idealmente pensare che potrebbe fare una cosa del genere verso la fine del mese di agosto però poi insomma ok noi seguiamo una strategia in academy che sto seguendo da tre mesi anche questo mese abbiamo fatto un ottimo performance intorno al 20% senza leva quindi più o meno il 40,50 con qualche tipologia di leva aggiustata è stata molto bella era bellissimo l'esperimento continuiamo a farlo anche pomeriggio io andrò a indicare pomeriggio non lo so pomeriggio domani andrò a indicare anche i prossimi livelli di buy per quella strategia e proprio perché penso che verso la fine del mese di agosto il mercato tenterà di aggiornare questi 48 probabilmente salendoli un po' a 51 vedremo comunque più in là allora questa fase di chiusura del ciclo mensile può essere un'ottima fase anche di acquisto come si fa però a ragionare in questi modi ragazzi come sempre bisogna ragionare sulla fase ok come vi sto dicendo ok stiamo chiudendo il ciclo mensile quindi questo è giusto garbato del mercato ok perché abbiamo toccato la resistenza andiamo giù va benissimo raccogliamo le forze però il mercato non deve scendere tantissimo intanto e fare dei buy dei dip in questa situazione vi espone un po' dei rischi perché poi andiamo contro trend di brevissimo però se siete bravi e smanettati e avete formazione nel trading sono delle ottime occasioni queste qui per entrare sui mercati ovviamente poi se il mercato non gira al rialzo non reinverte il trend ritorna rialzista chiaramente si va in stop come sempre non do consigli finanziari ragazzi lo sapete quindi il trading è estremamente complesso così come gli investimenti non pensate che gli investimenti siano meno complessi del trading semmai è il contrario ragazzi ok quindi non è assolutamente una materia da fare senza la dovuta formazione allora quali sono i livelli molto molto importanti dove il mercato diciamo non deve scendere al di sotto secondo me non deve scendere al di sotto di questa fascia di prezzo quindi 42 quindi questa zona qui già in una fase di chiusura che mi vada a scendere al di sotto di 41,42 quindi questa zona ragazzi per intenderci un po' mi preoccuperei perché la questione della debolezza del mercato sarebbe un po' eccessiva certo se fa solo la solita sparata di bitcoin e poi la close daily diciamo si riporta in zona accettabile va bene tutto sommato ci può stare però un po' che tiro poi diventa un po' più da attenzionare vi faccio vedere anche ethereum perché è nella stessa identica situazione di bitcoin anche eth se lo che è più forte di bitcoin perché ha fatto questo trend veramente quasi sembra una manipolazione attenzione perché il mercato è proprio entrato su eth più che su bitcoin nel diciamo configurazione del mio famoso video rimbalzo del gatto morto vedete qui questa fase tecnicamente può essere presa in considerazione anche per un'inversione di lungo periodo del mercato quindi se nel dopo la chiusura di questo ciclo mensile che qui è naturale ragazzi il mercato non ritroverà la sua consueta forza per andare a tentare il break dei massimi storici su eth si va a configurare una inversione con un massimo inferiore al precedente e attenzione perché diventa pericolosissimo per il concetto dell'abc va bene allora questa cosa qui l'ho spiegata in un video importantissimo andatemi a rivedere quel video anzi ve lo metto sulla mia testaccia ok e quindi ragazzi questa cosa è abbastanza importante quindi questa chiusura del mensile è corretta è in fase ciclica tutto è tranquillo secondo me essendo nel primo annuale il mercato tenterà di aggiornare i massimi io sono positivo ancora sul mercato delle cripto resta comunque questo pericolo che su eth è ancora più evidente perché bitcoin non ha avuto un rimbalzo tale da farci pensare a questa cosa perché vedete è molto più lontano dai massimi storici quindi in questa fase sembra tutta una nuova zona però è assolutamente rilevante che il mercato tenti di andare poi in un nuovo trend anche nei prossimi mesi va bene allora questa è molto importante questa fase andiamo a capire quali sono i livelli dove si può spingere bitcoin a ribasso vediamo anche se li guardiamo anche su eth perché no ragazzi e andiamo a vedere dove si possono costruire delle posizioni per rientrare sul mercato nell'idea che il prossimo ciclo mensile provi a fare nuovi massimi ovviamente sempre a livello speculativo e con stop loss sotto mano ragazzi abbiamo fatto degli ottimi trade per esempio su questa fase addirittura io ho pubblicato un trade intorno con degli ingressi su bitcoin intorno ai 30.000 ragazzi in questa fase qui pensate un po' l'ho pubblicato sul canale telegram lo trovate anche pinnato nel mio canale telegram con l'operazione è stata interessante quindi questa è una bella fase da punto di vista di trading ci sono veramente tante opportunità allora quali sono i livelli allora i livelli che dovete attenzionare in questa fase nella zona di ribasso sono in primo luogo anzi faccio una cosa ve lo faccio vedere sulla candela del grafico settimanale perché è più pulito quindi lo vediamo con maggiore chiarezza intanto la prima candela rossa dopo 4 verdi va benissimo quindi un mese di candele rialzisti va benissimo se anche questa settimana si conclude così ragazzi ok poi allora quali sono i livelli andiamoli a verificare allora i livelli intanto il principale è intorno a 44 e mezzo quindi 44 tra 44 e 44 e 5 questa zona vediamo se gli diamo un colorino più chiaro diventa una possibile area di buy the dip sulla close fatta e chiaramente non domani ragazzi questa deve avvenire sempre vicino alla scadenza naturale ciclica intorno al 20 di agosto se la fa domani è troppo presto certo si può tentare perché potrebbe anticipare un po' la close però diventa più pericoloso questo è il discorso allora questa zona è una zona importante dove io stesso ragionerò se entrare appunto intorno ai 44 44 e 5 lo dirò appunto in academy proprio fra poco lo saprete penso poi in anticipo rispetto all'academy e poi ragazzi l'altra zona è questa qui tra 41 e mezzo e 42 quindi questa facciamo così cambiamo colore direttamente le linee perché tanto è la stessa ok e l'abbiamo indicata in questo modo andiamo a dipingerla come sempre con il rettangolino questa è una zona di buy the dip sulla prospettiva che il mercato possa andare poi a costruire un eventuale ciclo mensile nuovo e quindi una ripartenza in pratica stiamo idealmente pensando che questa settimana fa una shadow qui poi si rimbalza nelle prossime settimane e il mercato tenti verso settembre di fare nuovi massimi questa è l'idea considerate che qui ovviamente siamo a metà settembre questo è un grafico di rotura settimanale se dovessimo vederle anche su eth il livello più importante di eth lo dipingiamo sempre in bianco ormai così ragioniamo sullo stesso colore diventa i 3000 questa zona qui sempre all'interno di queste due medie che sono le medie che sostengono il rianzo ciclo mensile potrebbe anche essere toccata leggermente la media 21 non è importantissimo che venga breccata al ribasso lo sapete e anzi non c'è nessun problema ma se lo fa con una shadow quindi questa zona per eth è una zona di buy the dip allora ragazzi queste sono le aree questo è l'aggiornamento settimanale sui mercati dell'ecrito è un bel momento mi piace veramente tanto spero continui diciamo questa fase di bitcoin per i prossimi i prossimi giorni io sono fiducioso che questo ciclo annuale che dovrebbe essere iniziato appunto da un mesetto possa essere anche quello che vada ad aggiornare i massimi storici del mercato però mi riservo di parlare di queste cose nei prossimi video ragazzi perciò iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché è troppo presto anticipare il mercato così però una cosa insomma la devo dire ma lo dirò ancora siamo al 16 però ragazzi la scommessa l'ho vinta io perché bitcoin si è fermato sotto i 67 prima di agosto 2021 e come da ormai video orzono di previsione futuristica io avevo scommesso contro il mercato che non avrebbe superato i 67 entro agosto 2021 è stato così ho vinto la scommessa almeno sembrerebbe mancano 14 giorni mai dire mai con bitcoin poi vedremo se avrò vinto io e niente ragazzi nessuna canzone magari poi ne faccio un'altra perché no quando finisce agosto va bene ragazzi ci rivediamo nel prossimo video e come sempre cosa state facendo scrivete nei commenti ciao